Scampia dice no al sito di compostaggio. A nemmeno 24 ore dalla presentazione del progetto per l'impianto di trattamento dei rifiuti organici nel quartiere a nord di Napoli, la Municipalità si riunisce in via straordinaria per bocciare su tutta la linea l'amministrazione comunale. Scampia ha già dato questa in sintesi la posizione del Presidente dell'ottava Municipalità, Angelo Pisani, che lamenta anche la mancanza di dialogo di Palazzo San Giacomo con chi vive nel quartiere. Noi abbiamo contestato il primo progetto che era sbagliato, dicono di averne rifatto un altro che non conosciamo, ma il sito di compostaggio secondo loro dovrebbe sorgere in un'area dove ci sono scuole materne, istituti scolastici, centinaia di abitazioni civili e soprattutto portando ulteriore inquinamento e immondizia a Scampia, che già ospita l'autoparco della Sia, già ospita l'isola ecologica, già ospita due carceri, già ospita il Campo Rom e non è più disposta ad essere la pattumiera della politica arancione. L'impianto di compostaggio, lo ricordiamo, sarebbe il primo ad essere realizzato a Napoli e porterebbe enormi risparmi alle casse del comune. Attualmente infatti la frazione umida viene portata fuori regione con un costo che varia dai 140 ai 170 euro a tonnellata. Lavorarlo in casa costerebbe invece circa 100 euro a tonnellata con un risparmio di 800 milioni di euro all'anno. Tuttavia, aggiunge Gianni Lettieri, capo dell'opposizione in Consiglio Comunale, questo progetto è solo un tentativo per coprire la politica fallimentare sui rifiuti del sindaco. Ascoltiamo. Scampia a dato, noi faremo le barricate, questa cosa non si può fare. Lui sono quattro anni che ha fatto zero sui rifiuti, la raccolta differenziata ferma al palo, i cittadini che spendono una cifra inconcepibile e al quarto anni, per far vedere che sta facendo qualcosa sui rifiuti, si inventa il stile di compostaggio a Scampia. Scampia ha bisogno di ben altro, Scampia per ripartire ha bisogno di centri di eccellenza, ha bisogno di università, certamente non di rifiuti.